Fedez non smette di far parlare di sé e adesso apre anche un canale OnlyFans. Quando tutti mi dicono di fare una cosa, a me viene da fare l'esatto contrario. Il cantante ha annunciato il particolare progetto a Giuseppe Cruciani, telefonandogli in una diretta. Ti devo dare una notizia, nessuna brutta notizia, tranquillo, ho deciso di aprirmi un profilo OnlyFans e volevo dirlo prima a te. Il rapper ha parlato anche dei contenuti che pubblicherà, tutti mi dicono che devo ripulirmi l'immagine e io subito tac, apro un bel canale di OnlyFans, però poi aggiunge che non farà vedere cose strane. Un sacco di star americane lo usano per mettere i cavoli loro senza contenuti o sé. Insomma Fedez sembra la ricerca di come raccimolare qualche soldo, che le cose in azienda non vadano più bene.